presentate a vittoria lo schema del nuovo regolamento comunale per il mercato otto frutticolo 54 articoli dove vengono definito organizzazione gestione e funzionamento della struttura mercantale con l'accusa di detenzione di stupefacente e resistenza pubblico ufficiali i carabinieri arrestano nel palermitano due vittoresi un cunisino in auto avevano 40 grammi di eroina nel 2011 aveva compiuto una rapina al mercatino settimanale di arezzo ora dopo l'arresto per il vittorese francesco mirco mangione è divenuta definitiva la sentenza del tribunale toscano prosegue a vittore verso il comando della polizia municipale la consegna dei pass definitivi per le cosiddette zone blu e c'è ancora tempo per ritirarli fino al prossimo 2 maggio al via vittore gli eventi per la settimana della cultura in campo anche l'associazione grotte alte che in collaborazione col comune ha organizzato una serie di manifestazioni culturali benvenuto il nuovo appuntamento con l'informazione sui 20 sicili allora presentato ieri pomeriggio presso la sala conferenze mai lo schema del regolamento comunale per il mercato di fanello 54 articoli dove sono definiti organizzazione gestione e funzionamento della struttura un momento quello di ieri per trovare insieme agli addetti a lavori i punti qualificanti per una struttura sempre più funzionale e trasparente dopo anni di parole progetti anche polemiche finalmente il nuovo regolamento del mercato ortofrutticolo comincia a vedere la luce lo schema che racchiude ben 54 articoli è stato presentato agli operatori della struttura rimane al vaglio degli addetti a lavori per eventuali correttivi aggiustamenti in corse il nuovo regolamento definisce in pratica la gestione l'organizzazione il funzionamento la struttura che deve adeguarsi necessariamente al cambiamento all'innovazione per andare al passo con i tempi punto qualificante la struttura la struttura assolutamente garante di una del mantenimento di una legalità gli altri punti dovremmo trovarli insieme il mio ruolo il mio compito è quello è stato quello dal momento della presentazione precedente ad oggi di raccogliere delle esigenze che sono le esigenze della parte produttori che sono le esigenze della parte commissionari esigenze improntate sulla necessità di creare le condizioni di un mercato funzionale che non sia ostativo che non vada a scoraggiare l'economia la commercializzazione e la vivacità questo è un momento importante per la città in cui si trova a discutere non solamente del regolamento ma con l'occasione del regolamento di mercato anche dell'agricoltura occasioni d'incontro di tutte le categorie agricole dai commercianti ai produttori ai trasportatori a tutte le varie categorie delle categorie a vario titolo credo che sia un passaggio importante non solo per discutere di regolamento ma anche di discutere di agricoltura a tutto tondo spero che le forze politiche i consiglieri comunali che io rappresento come presidente del consiglio comunale abbiamo l'intelligenza di ascoltarli e poi trovare noi il nostro momento in consiglio comunale per discutere la responsabilità di questo atto è propria del consiglio comunale di ciascun consigliere comunale oggi dobbiamo ascoltare le osservazioni degli operatori sia dei commercianti dei commissionari dei produttori dei trasportatori perché da loro dobbiamo apprendere i punti critici e i punti invece positivi di questo regolamento perché poi in consiglio comunale si possa esitare un atto quanto più positivo possibile Penuria d'acqua in alcune zone di Vittoria a segnalare il disservizio idrico all'amministrazione comunale il coordinatore di Città Libera Giuseppe Nicastro in particolare la zona compresa tra via Giambattista Iacone e via Fratelli Briganti ha risposto in questione all'assessore Filippo Capallo che conta di sistemare una parte della condotta idrica interessata e allo stesso tempo di risolvere presti i problemi anche del quartiere Forcone La cronaca con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente resistenza pubblico ufficiale i carabinieri della compagnia di Petralia Sottana nel Palermitano hanno arrestato due vittoriesi e un tunisino che viaggiavano insieme in auto trovati in possesso di 40 grammi di eroina Due vittoriesi ed un tunisino sono stati arrestati dai carabinieri di Castellana Sicula nel Palermitano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza pubblico ufficiale Si tratta di Antonio Cacciapaglia, nato in Germania ma residente a Vittoria Rosario Mario Belluardo, vittoriese di 46 anni e Tufik Abbes, nato in Tunisia 36 anni fa e residente a Vittoria Su disposizione dell'autorità giudiziaria i tre sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Termini Merese dove resteranno in attesa dell'udienza di convalida Secondo l'accusa il terzetto era andato nel Palermitano per rifornirsi di droga da rivendere poi nel Vittoriese In territorio di Castellana Sicula sono stati fermati dai carabinieri in servizi in un normale posto di controllo mentre erano a bordo di un Alfa Romeo 156 L'atteggiamento sospetto dell'autista ha indotto i militari a intimare l'alt ma il conducente invece di fermarsi ha iniziato ad accelerare dandosi alla fuga E' iniziato un lungo inseguimento nel corso del quale i carabinieri hanno notato che uno degli occupanti del mezzo lanciava qualcosa fuori dal finestrino Dopo quasi due chilometri l'auto è stata fermata Nel frattempo sono giunte altre auto dei carabinieri A dare loro manforte anche due agenti della Polizia Penitenziaria appartenenti al servizio cinofili che casualmente stavano percorrendo quella stessa arteria stradale Proprio i loro cani hanno ritrovato l'involucro lanciato dall'auto in corsa poco prima All'interno della confezione 40 grammi di eroina I tre sono stati quindi arrestati come detto con l'accusa di spaccio di droga e resistenza pubblico ufficiale A vittoria la Polizia ha arrestato ieri Francesco Mirco Mangione pregiudicato ventiquartenne del posto a sua carica infatti divenuta definitiva la sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo che lo ha giudicato responsabile in rapina aggravata in concorso episodio che si riferisce al 2011 Ancora un rapinatore arrestato dalla Polizia di Stato di Vittoria stavolta a pagare il conto con la giustizia è Francesco Mirco Mangione ventiquattranne vittoriese pregiudicato Il giovane è noto soprattutto in alcune regioni del centro nord Italia dove è accusato di aver commesso diversi reati La Polizia, ricevuto dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Arezzo l'ordine di esecuzione per l'espiazione lo ha arrestato nella tarda mattinata di ieri A carico del giovane è infatti divenuta definitiva una condanna di quel Tribunale che lo vede colpevole di rapina aggravata in concorso commessa nel 2011 Era il 30 luglio quando Mangione con altri italiani nei pressi del mercatino settimanale di Arezzo veniva fermato dalla volante che era intervenuta poiché un cittadino del Bangladesh era rimasto vittima della sottrazione dall'interno del suo furgone di commerciante ambulante del marsupio contenente denaro, telefonino e documenti La vittima aveva inseguito i delinquenti ed era riuscito a raggiungere uno di loro ma era intervenuto un altro soggetto che l'aveva costretto a colpi di bastone ad esistere Il pronto intervento della Polizia aveva evitato conseguenze più gravi ed aveva consentito di bloccare Mangione e l'altro soggetto Entrambi avevano ammesso subito le loro responsabilità ed avevano restituito il maltolto, erano stati quindi arrestati A distanza di 4 anni la procura della Repubblica di Arezzo ha ora fatto i conti e sottratto quanto già scontato ha calcolato che Mangione deve ancora espiare la pena di 9 mesi e 24 giorni di reclusione oltre il recupero della pena pecuniaria La pena verrà scontata nella sua abitazione Intanto un 28enne è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri di Ragusa il giovane, già nota le forze dell'ordine è stato sorpreso con 100 grammi di asci che detenevano la propria auto e che sul mercato avrebbero fruttato oltre 2.000 euro I carabinieri della compagnia di Ragusa hanno arrestato nel corso di appositi servizi antidroga disposti dal comandante provinciale tenente colonnello Sigismondo Fragassi uno spacciatore sorpreso a bordo della propria auto con circa 100 grammi di asci Il giovane, Francesco Cilenti, 28 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici è stato fermato la scorsa notte a Santa Croce Camerina dal personale del nucleo radiomobile Insospettiti dalle manovre di una Fiat Punto che alla vista dei militari ha accelerato l'andatura i carabinieri hanno deciso di procedere al controllo e dopo un breve inseguimento hanno bloccato il mezzo Sotto il sedile anteriore ad esso è stato trovato il panetto di droga che è stato sequestrato E' così scattato l'arresto di Cilenti che dopo le formalità di rito è stato condotto nella sua abitazione di Comiso dove rimarrà agli arresti domiciliari su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica Marco Rota E' accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente Ora, al vaglio degli investigatori che stanno proseguendo le indagini la posizione del pregiudicato per accertare la provenienza della droga che sul mercato avrebbe fruttato oltre 2.000 euro La sostanza stupefacente sequestrata è già stata inviata intanto all'ASP per stabilirne il principio attivo e quindi il numero di dosi ricavabili Non passa giorno che non ci siano arresti di scafisti gli ultimi due uomini del Gambia arrestati dalla Polizia Giudiziaria perché ritenuti responsabili di avere condotto un gommone soccorso martedì scorso dopo che era partito dalle coste libiche a bordo 79 migranti provenienti dal centro Africa La Polizia Giudiziaria arresta altri due presunti scafisti Si tratta di due uomini del Gambia di 44 e 24 anni Mustafa Seedi e la Minciatti ritenuti responsabili di aver condotto il gommone soccorso martedì scorso dopo che era partito dalle coste libiche A bordo 79 persone provenienti tutte dal centro Africa ed attualmente ospiti presso il CPSA di Pozzallo in attesa di trasferimento Alle procedure di sbarco hanno partecipato 40 agenti della Polizia di Stato ed altri operatori delle Forze dell'Ordine la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e i medici dell'ASP per le visite mediche A condurre le indagini gli uomini della Polizia di Stato Squadra Mobile Questura di Ragusa con la partecipazione di un'aliquota dei Carabinieri ed una della sezione operativa navale della Guardia di Finanza Il presunto comandante inizialmente ha inventato storie di fantasia quasi di una costrizione a condurre il gommone ma messo davanti alla realtà ha ammesso la propria responsabilità Il cosiddetto uomo bussola ha ammesso subito di aver percepito del denaro ed un passaggio gratis per occuparsi della rotta da seguire previa una mini preparazione fatta in una casa vicina alla spiaggia dalle quali sono partiti prezioso anche in questo caso il lavoro degli interpreti A Ragusa due aule del Tribunale porteranno i nomi di due magistrati blei scomparsi in prematura età sono il giudice Michele Palazzolo deceduto nel gennaio di quest'anno all'età di 57 anni e del giudice Maurizio Gurrieri morto nel settembre del 2006 quando aveva appena 44 anni a giudice Palazzolo è stata intitolata la prima aula delle udienze penali mentre al giudice Gurrieri è stata invece intitolata l'udienza del secondo piano dove è allocata la procura Le recenti critiche all'amministrazione comunale del coordinatore di patto per vittoria Arcangelo Mazza hanno innescato subito la reazione della segreta e del PD per il segretario Francesco Cannizzo all'interno dell'opposizione regna il caos più totale Dichiarazioni assolutamente scomposte e inappropriate così la segretaria del PD di vittoria per bocca di Francesco Cannizzo dopo le ultime affermazioni del coordinatore di patto per vittoria Arcangelo Mazza il PD e la giunta nicosia operano bene a rileva Cannizzo e dunque causano inevitabilmente l'insofferenza degli oppositori che gravitano all'interno e all'esterno del Consiglio Comunale per cui il deliro nel quale ormai si è cacciata questa opposizione è assoluto e al suo interno regna il caos più totale ma Ora Mazza, dice ancora Cannizzo, e l'intera compagnia tentano di trascinare la città nella confusione perenne per quanto riguarda ad esempio la vicenda dello schema di Massim del PRG prosegue il segretario del PD comprendiamo l'imbarazzo dell'opposizione pataracchio e arriverà presto il giorno in cui coloro che mestano nel torbido dovranno rispondere delle loro malefatte davanti alle città e dopo la sconfitta disarmante decretata dal TAR hanno pensato bene di reagire invocando l'ennesimo ricorso tuttavia la segreteria del PD si dichiara disponibile a discutere nonostante questa sentenza si auspica l'apertura di una nuova fase della politica cittadina mi rendo conto, conclude Cannizzo, che la campagna elettorale sia iniziata il giorno successivo alla vittoria di Nicosia ma ci auguriamo che vi siano ancora delle posizioni responsabili con cui confrontarsi Ragusa intanto il terzo circolo del PD è finito nel caos dopo le dimissioni di Carmelo Anzaldo Carmelo Boncoraglio e Vito D'Angelo alla base dello scontro ci sarebbe la gestione del circolo da parte del segretario Tony Francone il quale in un anno non ha presentato non avrebbe presentato alcun documento politico Francone che ha incassato le accuse lanciate dei tre dimissionari al momento per evitare polemiche ha detto preferito non commentare Vicenda Fondex Insicem l'ultimo atto del commissario straordinario Dario Cortabellotta è stata la delibera di adesione al progetto microcredito per l'avvio di imprese con l'impegno di 150.000 euro 150.000 dei fondi ex Insicem per l'avvio di nuove imprese con l'adesione al progetto già in capo denominato microcredito per l'avvio di imprese il commissario straordinario Dario Cortabellotta prima di cessare dalle funzioni nella sua ultima riunione di giunta accogliendo la proposta dell'organismo di garanzia dei fondi ex Insicem ha infatti deliberato di aderire a questo progetto si tratta come facili arguire di una boccata d'ossigeno per le imprese ragusane che sono in gravi difficoltà e l'iniziativa ha avuto l'input oltre che dalla Camera di Commercio anche delle diocesi di Ragusa e Noto e della Banca Agricola Popolare in pratica è stato dato mandato al dirigente al settore sviluppo economico di impegnare i 150.000 euro sulle disponibilità della capitalizzazione delle imprese essendoci disponibilità nel fondo è stato anche deciso di predisporre un nuovo bando finalizzato ad interventi a favore di investimenti utilizzando le somme disponibili nella misura 5.3 a seguito della chiusura dell'attività istruttoria delle stanze pervenute col bando del 2012 con una proposta della CNA in materia di RC Auto che sarà presentata sabato a Ragusa dal presente nazionale servizio alla comunità Franco Mingozzi ai parlamentari dell'area Iblea diversi punti principali della proposta la libertà di scelta della carrozzeria a cui affidare la riparazione da parte dell'assicurato la riparazione eseguita nel rispetto della conformità con gli standard dei costruttori la revisione delle auto riparate dopo un incidente che ha compromesso la sicurezza del veicolo e ancora l'obbligo della fatturazione di tutti gli interventi riparativi Prosegue a Vittoria presso il comando di Polizia Municipale la consegna dei pass definitivi per le cosiddette zone blu e c'è ancora tempo fino al prossimo 2 maggio I titolari di pass provvisori che autorizzano a Vittoria la sosta libera nelle aree dove è prevista la sosta a pagamento la cosiddetta zona blu hanno ancora tempo fino a sabato 2 maggio per ritirare i pass definitivi possono quindi recarsi presso il comando della Polizia Municipale all'interno del mercato ortofrutticolo nei giorni di lunedì mercoledì venerdì e sabato dalle ore 9 alle 13 il martedì e giovedì invece la consegna dei pass è fissata dalle 16 alle 20 il pass definitivo ha spiegato il comandante Cosimo Costa realizzato su cartoncino plastificato e fornito di ologramma anticontraffazione sarà rilasciata agli aventi diritto dopo la restituzione di quello provvisorio e dietro pagamento di un euro e questo a titolo di rimborso delle spese estrettamente necessarie per realizzare appunto il titolo autorizzativo a decorrere quindi da lunedì 4 maggio i pass provvisori non saranno più ritenuti validi e si procederà alla sanzione a essenza dell'articolo 157 del codice della strada in caso di esposizione degli stessi pass sabato prossimo sabato 18 aprile scoglitto ospiterà la prima edizione del festival di primavera organizzato dal consulente del sindaco per le iniziative giovanili Yuri Impellizzeri in collaborazione con Gaetano Micieli e Stefano Speranza l'iniziativa che avrà luogo in piazza Cavour inizierà alle 17 per concludersi intorno mezzanotte su proposta di Impellizzeri ha dichiarato il sindaco Nicosia abbiamo deliberato l'organizzazione del festival stanziando 1300 euro per l'iniziativa e un modo dice Nicosia per essere vicini ai giovani per una sera alla piazza e quindi sarà dedicata a loro e auguro ai ragazzi un sano divertimento e li saluto sin d'ora perché non posso essere presente dice Nicosia in quanto impegnata a Napoli per attività istituzionali e poi ci sono gli eventi per la settimana della cultura Vittoria che coincide anche con i festeggiamenti per l'anniversario della fondazione della città diversi gli appuntamenti al via dal prossimo 24 aprile l'associazione Grotte Alte in collaborazione con l'amministrazione comunale organizza in occasione della settimana della cultura e in concomitanza con l'anniversario della fondazione di Vittoria una serie di eventi che si svolgeranno il 24, 25 e 26 aprile l'associazione ha programmato una serie di attività culturali e sociali mirate a far conoscere la cittadinanza e non solo le bellezze della città di Vittoria in particolare giorno 24 aprile alle ore 17 nei locali della Sala Mazzone è prevista una conferenza dal titolo Paesaggio e bellezza tra archeologia e natura realizzata con la collaborazione di Italia Nostra e UNESCO al termine si inaugurerà il concorso fotografico dal titolo le nuove cartoline di Vittoria alle ore 21 del 26 aprile poi verranno annunciate le 5 foto più votate che diventeranno le nuove cartoline della città giorno 25 dalle ore 16 e 30 alle 19 lo staff di Grotte Alte guiderà i partecipanti in un tour alla scoperta delle bellezze della città partendo dal Chiostro delle Grazie si visiteranno i tunnel fino ad ora chiusi al pubblico il Teatro Comunale la Basilica di San Giovanni Battista e il Castello Colonne Enriquez giorno 26 aprile a partire dalle ore 16 e 30 si andrà invece alla scoperta del patrimonio storico della zona archeologica di Grotte Alte il giro partirà dal castello per poi scendere attraverso i sentieri della valle entrambi i tour prevedono un contributo libero di minimo un euro a partecipante la somma raccolta verrà destinata al progetto oltre la valle a Ragusa intitolata Laura Guastella l'impianto sportivo polivalente di Contrada Petrulli atleta prematuralmente scombarsa l'8 dicembre del 2003 a deciderlo l'amministrazione comunale che alla luce delle richieste presentate diversi anni or sono sia dalla famiglia della compianta Laura sia dal comitato provinciale della federazione atletica leggera ha adottato uno specifico provvedimento e per dare corsa a questa delibera ieri incontrati a Petrulli si è appunto svolta la cerimonia di intitolazione in cui sono stati presenti Giovanni e Francesco Guastella rispettivamente papà e fratello di Laura il sindaco Federico Piccitto il vice sindaco assessore allo sport Massimo Giannucci e il delegato provinciale del CONI Rosario Cintolo oltre a diversi semplici cittadini basket femminile passa l'acqua spedizione che doma il Napoli al termine della prima semifinale playoff scudetto femminile dopo una partenza sciocca ieri al Palaminardi per le Ible poi la reazione e la vittoria ci è voluto ieri al Palaminardi grande volontà e massima applicazione per rispedire battuta a casa la Sages Napoli 1-0 dunque nella gara di andata delle semifinali playoff femminile col quintetto di Molina che chiude 57-51 a partita molto tirata e combattuta e si vede subito fin dall'inizio che è l'avversario di quelli tosti e a poco servono i tiri da fuori imprecisi affrettati per cui Napoli scatta subito avanti e in un Palaminardi stracolmo infuocato di tifo le atlete di Molino riprendono coraggio poco dopo con la gara abbastanza equiligrata poi Pearson entra finalmente nel match trascinando la squadra a metà gara per la prima volta avanti col primo tempo che si chiude 24-21 ritmi sempre altissimi anche nella terza frazione di gioco poi ci pensa Gorini a lanciare la fuga della Ragusane che alla terza sirena chiudono avanti di ben 11 punti il Napoli però non ci sta e con l'orgoglio prova a rimettere in gioco il match piazzando un parziale di 8-0 e portandosi nel finale sul 52-42 le ragazze di Molino restano però concentrate e con grande volontà e determinazione anche stringendo i denti chiudono ogni varco e chiudono sul 57-52 da oggi si pensa alla gara 2 in programma sabato pomeriggio al Palla Vesuvio Palla 2 alle ore 18 eccoci al riepilogo dei fatti nel primo piano presentata a Vittorio lo schema del nuovo regolamento comunale per il mercato ortofrutticolo 54 articoli dove vengono definito organizzazione gestione e funzionamento della struttura mercantale un momento quello di ieri presso la sala conferenze maie mirato soprattutto ad un confronto con gli addetti ai lavori per una struttura sempre più funzionale trasparente e che deve necessariamente adeguarsi ai tempi con l'accusa di detenzione di stupefacente e resistenza pubblico ufficiale i carabinini arrestano nel palermitano due vittorisi e un tunisino in auto avevano 40 grammi di eroina si tratta dei vittorisi Rosario Malo Baluardo e Antonio Cacciapaglia del tunisino Tofik Abessa secondo gli inquirenti il terzetto si trovava nel palermitano per rifornisti di droga da rivendere successivamente nel vittoriese nel 2011 aveva compiuto una rapina al mercatino settimanale di Arezzo ora dopo l'arresto per il vittoriese Francesco Mirko Mangione è divenuta definitiva la sentenza del tribunale toscano nel luglio del 2011 Mangione assieme ad altri giovani era stato fermato al mercatino di Arezzo alla polizia intervenuta dopo la denuncia di un extracomunitario che aveva denunciato il furto del suo marsupio contenente denaro telefonino e documenti prosegue a vittoria presso il comando della polizia municipale la consegna dei pass definitivi per le cosiddette zone blu e c'è ancora tempo per ritirarli fino al prossimo 2 maggio il pass definitivo sarà rilasciato agli aventi diritto dopo la restituzione di quello provvisorio e dietro pagamento di un euro a decorrere quindi da lunedì 4 maggio quelli provvisori non saranno validi e si può incorrere nelle sanzioni al via vittoria via venti per la settimana della cultura in campo anche l'associazione grotte alte che in collaborazione col comune ha organizzato una serie di manifestazioni culturali diversi gli appuntamenti in concomitanza anche con l'anniversario della fondazione di vittoria conferenze concorsi fotografici e visite guidate alla scoperta del patrimonio storico della zona archeologica attraversando anche la valle dell'Ippari per il momento è tutto grazie come sempre per l'attenzione appuntamento alle prossime edizioni a Grazie a tutti.